oh ma da quanto che ne so da quanto che ne so cioè sto cercando sto provando a vendere un giubbotto su vinted e uno mi ha scritto io sono interessato ma vorrei la taglia m non sono un negozio la taglia è quella non è che la posso cambiare aspettate che ormai minecraft non ricordo più neanche come si giochi allora solo comunque facciamo qualche partita giusto così poi apriamo il mega paccone questa volta spero di bardare il letto in tempo allora il verde non c'è però potrei prendere le sue risorse però dovrei prendere diamanti quindi andiamo a prendere i diamanti che altri contenuti oltre mc allora io scaricato anche il nuovo gioco di one piece cioè nuovo no l'hanno aggiunto su steam poi ho scaricato fortnite gta potrei provare a portarlo a vedere se lo caga qualcuno se no continua a fare minecraft quando prossima stassi ma non sono più staff su fear games da due anni tra ma i diamanti a proposito in questa mappa dove ok sono qua ok 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 andiamo piano piano però mi sa che laggo un po 663 ecco perché perdo porca miseria stavo di tanto più creando una copertina con una copertina per me spero perché io sto cercando staff per il team ah no c'era un problema del server quindi non era mio il problema ok ok top perfetto non mi prendo la responsabilità allora vabbè minecraft ragazzi non funziona quindi faremo l'unboxing ho qua i miei pacchetti ho il cavo delle cuffie estremamente corto quindi non so come come faremo però l'impasto così uno alla volta ecco il primo pacco adesso lo apriamo sono uno youtuber è vero che fai unboxing in live ora lo apro sono molto emozionato adesso la vediamo ok il primo pacco è è spongebob è un funko pop perché faccio la collezione andrà nella vetrina e questo ve lo faccio vedere molto molto vicino vabbè questo è il primo pacchetto questo qua ce lo possiamo togliere bro mi mette ansia spongebob ma che stai dicendo che stai dicendo non dire bugie il prossimo pacco è questo che è sempre amazon e adesso scopriamo cosa c'è dentro siete emozionati siete agitati siete nervosi ah no c'è la c'è la loe che se vi state chiedendo perché l'ho presa è perché ho letto degli studi che aiuta l'infiammazione è un'anti infiammatorio spero funzioni aveva sì tanto non è che sono un po tutte cagate però E buttiamo via anche questo ora c'è il pezzo grosso che non riesco a prendere Ok ce l'ho fatta è grosso è molto grosso E ora lo provo ad aprire La miglior cura è guardare la grittara Vero? Allora iniziamo E poi in regalo c'era uno shaker Normale La roba l'ho presa su fit market non mi hanno pagato anzi ho dovuto pagare io sta roba non è una Sponsorizzazione Magari lo fosse magari fossi partner con loro Avrei integratori gratis e sarebbe un bel risparmio Sei in pressa nel settore sbagliato è vero io ho sbagliato tutto nella mia vita Io speravo di di avere successo in qualcosa ma invece faccio cose completamente diverse Vabbè Se qualcuno di voi gioca a Che qualcuno di voi che gioca a minecraft fa anche palestra Sappiate che faccio anche coaching online Seguitemi E diventiamo tutti insieme grossi Sì ma il discorso è io ho una bella mountain bike una focus con freno a disco sospensioni Non voglio prendermi un'altra bici quella lì ci sono anche affezionato quindi Mi terrò a quella Poi un giorno magari tornerò a fare mountain bike pesante sferrato nei campi Nei boschi E lì farò il vlog Metterò l'action cam La gopro e Faremo i giri nei campi Cosa avete allenato oggi? Il jitter click Ok basta la smetto sto zitto Non parlo più No ma c'è qualcuno che mi sta facendo gli scherzi Con la vanish Per forza Ok ci sono tutti Scompaiono i blocchi Sì sì facciamo la foto vai 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 vieni facciamo la foto vai vai Non ho già allenato il cervello e studiato Grande che bossa anche io ho studiato un capitolo sul ginocchio E mi hanno buttato fuori E ragazzi Donate così mi compro internet Perché in queste condizioni non si può giocare Possiamo aprire Possiamo aprire il funk pop Possiamo aprire Spongebob Ci sono anche Ma è bellissimo Devo comprarmi Patrick palestrato Questo quello rosa Questo qua Lo voglio Lo pretendo Sì adesso sono tutti figli ma Patrick Tanta tanta roba Patrick Diventerà la nuova mascotte del canale Patrick dopato Aspetta lo sto tirando fuori Il funk pop Non il Eccolo Bellissimo L'ho pagato tipo 10 euro E penso di non aver mai fatto un acquisto così tanto intelligente Quindi signore io Direi che ci possiamo salutare Così lascio Taraz editare Questo video lo vedrete anche su YouTube Questo video Questa è una live Tara Questa live la vedrete anche su YouTube Che qua abbiamo finito Seguitemi sui social Questo in teoria è anche un video Quindi lasciate like Iscrivetevi al canale Seguitemi sui social Che trovate dappertutto Se volete diventare grossi Iscrivetevi Sono il miglior preparatore del mondo Vi do un bel bacio In bocca E ci vediamo in un prossimo video E in una prossima live Ciao